Se volete acquistare crediti visitate FIFA Coinstank, un sito economico, affidabile e velocissimo. Utilizzate il codice coupon che trovate in questa immagine per avere il 10% di sconto natalizio. Bella a tutti ragazzi, coorgasmi che sono qui con un nuovo episodio dei Potential Transfer di gennaio. Sono davvero felice che il primo episodio vi sia piaciuto davvero tanto, quindi vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace all'inizio del video, così che se raggiungiamo almeno 400 mi piace uscirà anche il terzo episodio. E essendo questo l'ultimo video del 2014, volevo augurarvi una buona fine dell'anno e un buon anno, anzi comunque penso che il primo di gennaio uscirà comunque un video, penso, comunque non ne sono ancora sicuro. Comunque, cominciamo subito con i giocatori di oggi, vi ringrazio anche perché mi avete scritto tanti commenti con tanti giocatori da trattare. Direi di cominciare subito parlando di uno dei giocatori che mi è stato più consigliato da voi, cioè Manolo Gabbiadini. Come sappiamo tutti, Gabbiadini terminerà, penso, qui la sua avventura a Genova con la Sampdoria, e che sappiamo che sta per firmare per il Napoli, quindi Manolo Gabbiadini si sta per trasferire al Napoli. Penso che sia un ottimo acquisto da parte del Napoli, lui verrebbe al Napoli per sostituire Insigne, infortunato, che salterà tantissimo, non so, forse è stagione addirittura finita per Insigne, adesso non ne sono sicuro, però con quel brutto infortunio che ha rimediato, penso di sì. Gabbiadini, che comunque è un ottimo giocatore, quest'anno ha dimostrato davvero di essere un giocatore importante, un giocatore che sa fare gol, e quindi penso che nel Napoli potrà fare bene. Penso che giocherà comunque sulla sinistra, appunto per sostituire Insigne, che è sostanzialmente il suo ruolo, però può essere impiegato, come sappiamo, anche da trequartista, come tra l'altro è il suo ruolo di FIFA, ma anche da seconda punta, potrebbe anche affiancare gli attaccanti, anche se comunque Benitez gioca con il 4-2-3-1, quindi penso farà l'esterno in sostanza. Poi, andiamo con il secondo giocatore, stiamo parlando di un giocatore che non è legato alla Serie A, stiamo parlando di Mats Hummels, che nonostante lui sia campione del mondo, gioca nel Borussia Dortmund, che è una squadra che quest'anno in campionato non sta brillando, infatti è nelle posizioni più basse della classifica, per cui c'è mai contento per lui a Dortmund, e il suo desiderio potrebbe essere quello di cambiare squadra. Quindi si parla di un suo probabile approdo al Manchester United. Manchester United che, acquistando Hummels, farebbe un colpo innanzitutto devastante, perché Hummels è veramente un top difensore, e poi andrebbe a completare la sua rosa, Van Gaal, perché sappiamo che comunque dopo l'inizio un po' titubante del Manchester, si sta riprendendo, e alla grande, infatti è nelle prime posizioni di classifica, manca un po' qualcosa in difesa, infatti con un possibile acquisto di un giocatore con esperienze molto forti, come tra l'altro è Hummels, andrebbe sicuramente ad aggiustare la fase difensiva e quindi a completare la squadra per renderla veramente un top team, che potrebbe anche competere con le più forti d'Inghilterra, senza ombra di dubbio. Adesso non si sa, mi pare che in estate il Borussia Dortmund avesse chiesto una cifra come tipo 40 milioni per acquistare Hummels, che è comunque una cifra veramente altissima. Bisogna vedere se il Borussia Dortmund abbasserà le sue pretese, ovviamente sul valore del giocatore, anche perché poi dipenderà dalla volontà del giocatore di trasferirsi o di rimanere al Borussia Dortmund. Andiamo con il terzo giocatore di oggi, stiamo parlando di un altro giocatore che viene dalla Bundesliga, e cioè Shaqiri, Shaqiri del Bayern Monaco, che impiegato veramente poco, cioè non tanto da Guardiola nel Bayern Monaco, è un giocatore giovane, un giocatore che ha bisogno di giocare e quindi magari vorrebbe anche trasferirsi. Si parla, è veramente da un anno che si parla di Shaqiri che potrebbe venire in Italia, potrebbe andare in Premier, comunque sì, sono sempre le stesse le squadre che un po' se lo desiderano. Ora parliamo della Juventus, che si parla in queste ultime ore tanto di Juventus e Shaqiri, dell'asse Torino-Monaco, di un possibile approdo di Shaqiri e la Juve. Come sappiamo, Allegri, oltre a cercare un difensore centrale, tra cui stiamo parlando di Ronaldo e vari altri giocatori, ma comunque magari ne parleremo in un secondo episodio, cerca anche un trequartista, un giocatore più offensivo, in grado di, diciamo sulla trequarti, avere velocità, qualità, fantasia, e Shaqiri potrebbe essere uno di questi giocatori. Si è parlato tanto anche di Snyder, come mi avete anche consigliato voi nello scorso episodio, ma le quotazioni per Snyder in queste ultime ore stanno scendendo, mentre si stanno più alzando quelle per Shaqiri. Non so se arriverà a Shaqiri perché è davvero difficile, secondo me, come trattativa. In ogni caso, Shaqiri è un ottimo giocatore, l'ha dimostrato sicuramente in tutte le partite con il Bayern, ma anche al Mondiale, che ha guidato la Svizzera, e io penso che alla Juve, se venisse alla Juve, se arrivasse alla Juve farebbe veramente tanto bene, benissimo, anzi direi. Poi ovviamente non ce la controporò, però è un giocatore con qualità, un giocatore veloce, un giocatore che potrebbe sicuramente fare benissimo nel nostro campionato. Ovviamente non stiamo a parlare di cifre, di prestiti, di acquisti, eccetera, eccetera, perché comunque non c'è niente di scritto, non c'è niente di provato, comunque si vedrà all'inizio del mercato come andranno a finire queste tre trattative di cui abbiamo parlato oggi. Anche per oggi il video finisce qui, ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, come ho detto in inizio del video, 400 mi piace per il nuovo episodio, vi invito a scrivermi sempre un commento consigliandomi vari giocatori che voi vorreste vedere nei prossimi video, giocatori che dovrei trattare nei prossimi episodi, e iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione, io vi auguro un buon anno, tanto comunque ci vediamo penso il primo o al massimo il secondo di gennaio per un nuovo video che penso sarà il setup della mia zona gaming, chiamiamola così zona YouTube, ci vediamo appunto al prossimo video, bella ragazzi!